Altro che tonno non lo trovo, ariola Si, ragazzi, la sua è sagra dei porchi Yeah, numero uno E ma che tonno non lo trovo qua Ma chi so, non so mio figlio, sono il capitato Fius qua Altro che tu mi superavi Sottolineato mio Oh, 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 oh Adesso col curo, moio, i passaggi, Sì, è il biscineo, lì? Oh, Dio! Cos'è il biscineo? Cosa fa? Quanto migliora? Traducimi questa frase su un po' a capire, eh? Quanto migliora? Ai, è migliora. Ho detto migliora. È un po' a capire. Mi sarebbe a scuola, non mi vedi. Un schermo, defensivo. Brrr! Ma adesso non si chiede a furia. È un po' a capire. È un po' a capire. Ma, io sono molli. Oh, io fa molli, io voglio dire che io la te ne ho. Ma che è un po' a capire, o? Eh, beh. Porchi che ne ho montato abbastanza.